E i primi effetti collaterali della mancanza di unità tra le varie componenti della filiera si starebbero secondo Belli già manifestando. Ad alcune aziende pratesi sarebbero infatti arrivate richieste di annullamenti di ordini dai grandi brand della moda che in altri casi proporrebbero persino pagamenti ridotti o a ribasso. Un allarme che secondo l'imprenditore non può passare inosservato. I brand che tendono a taglieggiarci, noi non ci va bene. Bene, sappiate che questo sistema, questo metodo non lo fanno solo i grandi con noi a Prato ma anche all'interno nostro. Se capito che non va bene, se capito, facciamo tutti un passo avanti. Noi si sa lavorare, si sa lavorare alla svelta, ci manca un attimo di umiltà, proviamoci. Probabilmente i nostri figli faranno il tessile anche loro.